Ciao ragazzi, qui è SafeJoe e insieme a Vrio, Bella e anche a Cash Bella raga E siamo a fare un kill race sul mio canale con sensibilità 1 Mamma mia Se mi lasci fare l'intro magari C'è Vrio che vuole fare l'intro perchè il suo video caricherà anche sul suo canale Bella ragazzi, ciao Vrio e oggi siamo tornati con appunto Joe e Cash Bene, cominciamo malissimo Con questo che è resa appunto con insesibilità 1 e con la pesca Oh sì, ma io non riesco a girare Secondo me arriva primo il bot Senta che arriva prima? Insieme a due feeder giro e attenzione Che se li batte fanno la figura di merda Chiccate dal clan Madonna ti gioca matissimo Due kill No, non dirle No Oh, io ho trovato un DSR Quad feed Sì, è arrivato Te lo giuro Ma come cazzo Mi sa che Cash non sta a giocare qualsiasi vita 1 Te lo giuro È in vita 1 Ma non la venga double feed Bene Oh, headshot No Dai, 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 dai Mi faccio qualsiasi vita 1 Raga, io ci sto riuscendo Incredibile Sì, vabbè, che ci ha fatto le sfide Dai, dai, ce la sto facendo Sto recuperando Spero almeno Di arrivare secondo Minchia, a un botte che ho fatto in 360 Non ancora 360 con il 1 E il massimo Oh, lui si fa i wallbang Sì, vabbè, dai, su Dai, mi fidano con l'MK48 Sì, ma veramente Perché è davvero Una sfida All'ultimo Raga Per sto video Chiedo almeno 100 like Perché È fottutamente epico E a 100 like Lo farò con i due capoclan Capoclan Con i due leader Dei safe Perché Cash e Frio Non soddisfano le mie richieste Sei pessimo Sei davvero pessimo Sessuali Ah, salutiamo Frio Credo che è la prima volta Che fa una pesca Perché Cash no Andate a mettere di dislike Hitmark No, non posso morire adesso Non posso Sto stagionare Io vai Ma io non Io non riesco a far più di una Che defila Che paga Sì, vabbè, ma solo io C'ho quelli con lo scudo Sì, sono te Bello Hitmark Hitmark È alla spalla C'è sto Nelson Madonna Ma cos'è C'ho il joystick Che mi spara da solo Cioè lui ha il joystick Che mi spara da solo Oddio No, fasi col feed Dai C'era quasi Dai Il mio massimo Il mio massimo È doppia feed Double feed Doppia feed Sì, vabbè Cash e feed Cash secondo me È anche online gioco È costensibile da uno Nove No, anche io Nove No, triple feed Vai, continua Continua Come on Come on, rega Però io non sto andando malissimo Road to find one screen Cosa? Che hai detto? Oh, se esce Se esce una buona clip La metto nel mio Nel mio episodio Nel team page Di Save Joe Dai Su Su, via Continuiamo questa bella partita Oh no No Ho spiegato il coladio Dai Ma è impossibile Vai Gioco di merda Ma perché ste sfide? Ah, la prossima La faccio con Twin e Axel E Consigliatemi come fare Cioè con che tipo di sfida Non un killerista normale Perché Oddio triple Oh Triple headshot Triple headshot Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio E lui si è ingasato Per le triple headshot Oddio Manca 27 Ma come la puoi fargli? Sì No, triple headshot Oh mio Dio, regà E io ho fatto un botto di morti Sì vabbè Tu stai zitto Che manco di fare online Dai 15 secondi Non riesco a girarmi Attenzione 10 Marker 5 No L'ultima che... No Quanto avete fatto? Quanto avete fatto? Quanto avete fatto? Boh Non lo so Dimmelo Cash? 47 No 46 Ma tu no 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 Sì Sì Ma si può? Sì Dai Ultimo Vabbè Quanto è file Dai Allora ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto da Joe Da cash Bella Ed aprile 100 like persa ragazzo di episodio passate al loro canale che saranno in descrizione e ditemi una sfida con cui fare il joystick magari all'incontrario o in bocca Ragazzi non vedessi così che ha detto giù Due piedi Bella Da 36 E' tutto Bella 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 Ciao Ciao